Uno, complimenti all'allenatore, a Roberto Mancini, perché hai dei coglioni grandi quanto una casa che l'ha preso, l'ha buttato dentro e ha detto vai, vai in campo, non è problema. Sto ragazzo qua è arrivato da due giorni, non conosceva i ragazzi, non parla l'italiano, di un'umiltà unica e qualche pezzo di merda si azzarda anche ad attaccare sto ragazzo qua. Ha fatto più di 50 partite in nazionale immobile e ancora oggi immobile, immobile, questo prima partita un gol. Immobile continua a far schifo in nazionale e cosa facciamo? Andiamo, ah ma rete, sto ragazzo qua è arrivato con umiltà, con dedizione, si è impegnato, accorso, non conosceva nessuno dei suoi compagni, tre giorni è arrivato dall'Argentina, confuso orario eccetera, l'hanno buttato dentro, bravo sto ragazzo, bravo Roberto. Chi è che mi preoccupa a me tanto è i giocatori sopravvalutati, soprattutto in mezzo al campo.